La decidono i capitani delle due squadre, ancora porta in vantaggio il Martina sul rigore prima dell'intervallo Palazzo, entrato a match in corso, pareggia i Conti nel finale di gara per il Bitonto. Finisce così, 1-1 il derby pugliese, giocato al Torsi è valido per la quarta ultima giornata del campionato di Serie D. I Biancazzurri salgono a 40 punti in classifica, i Nero Verdi balzano a quota 42, morale della favola. Bitontini salvi matematicamente con tre giornate di anticipo, la squadra della Valle Dietria ancora no, ma il traguardo ora è davvero vicinissimo, gara condizionata dalla pioggia e dal terreno pesante, padroni di casa vicini al vantaggio dell'apertura ancora, prende la mira con il destro, calcio di potenza ma la replica di Civita è di valore, molto bravo nella circostanza il portiere 2004 degli ospiti, ci riprova l'11 del Martina, questa volta con il Mancino, mira in precisa, approccio migliore dei Biancazzurri, prova a scuotersi e a salire di tono l'11 di Valeriano Loseto, che però fatica a creare problemi dalle parti di Figliola, uno dei tanti ex di turno, non un granché della parte opposta alla stoccata di Langone, poi il primo episodio cru, Muscatiello interviene così in aria su Mangialardi, l'arbitro indica il dischetto, non è irresistibile la conclusione di Ancora dagli 11 metri ma Civita non riesce ad opporsi. Martina in vantaggio, Martina che conserva poi gli 1-0 sino all'intervallo perché è in pieno recupero, è debole la conclusione della distanza di Silletti, ripresa, meno scoppiettante, succede poco o nulla nella prima metà, poca roba, poi il piazzato di Maffei per gli ospiti, può chiuderla dalla parte opposta, la squadra di Massimo Pizzulli ma Civita risponde presente al colpo di testa ravvicinato di Sush, resta in partita dunque l'11 nero verde e trova il pari nel finale, palla geniale di Maffei che il nuovo entrato Palazzo trasforma nell'acuto dell'1-1, finisce così in parità al Torsi, finisce con un punto a testa, Bitonto salvo, Martina quasi, domenica terz'ultima giornata del campionato di Serie D, nero verde in casa nel derby con il Gravina, Biancazzurri in trasferta contro la capolista Cavese.